un tuo caro ti ha dato l'incarico di ricaricare la sua scheda Iliad ma non sai come fare visto che da logato può ricaricare solo la tua non ti preoccupare ti aiuto io qui ti farò vedere come ricaricare due numeri diversi Iliad come prima cosa accedi al sito di Iliad www.iliad.it e recati nella parte inferiore della pagina mi raccomando non loggarti non entrare nella tua area personale una volta aggiunto nella sezione I tuoi servizi clicca su ricarica qui si aprirà un pannello dove dovrai inserire due volte il tuo numero di telefono e poi l'ammontare della ricarica desiderato ripeto ancora una volta che devi fare questa operazione da non loggato nella tua area personale clicca in basso su ricarica e poi nella nuova schermata inserisci tutti i dati della tua carta di credito infine clicca sul pulsante rosso ricarica il tuo numero riceverai un sms della venuta ricarica bene ti ho fatto vedere come ricaricare un numero che non è il tuo quale può essere un numero di tuo parente di un tuo amico o un'altra scheda ripeto ancora una volta che questa procedura deve essere fatta da non loggato nella tua area utente se il video ti è piaciuto metti mi piace iscriviti al canale e noi ci vediamo alla prossima un saluto da simone iscriviti al canale iscriviti al canale iscriviti al canale